Ehi là, insieme al mio miccio e al mio micione voglio dirvi che questa sera alle ore 20 sarò in diretta sul mio canale Twitch MrNichilistaTV, ci sarà live musicale dove ascolteremo un nuovo album di Giorgio Gaber, altro che Sfere Basta, Laura Pausini o Imaneschkin, Giorgio Gaber, album che ascolteremo insieme e poi potete fare anche due richieste e ascolteremo poi due canzoni anche frutto dei vostri desideri. Stasera ore 20 puntuali MrNichilistaTV, il mio canale Twitch, se volete venite anche oltre a seguirmi, anche ad abbonarvi come cosa in più, perché sarebbe un grande supporto per me, se avete Prime è gratis. Ora video, linea al video di oggi. Buonasera, buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voi, sono qui insieme ai miei due micetti e oggi volevo davvero manifestare il mio disappunto, il mio sdegno, perché a proposito della tematica OnlyFans, ragazze che mettono in vendita proprio i contenuti intimi, quindi foto, video, se non riesco a capire perché a così tante persone dà fastidio a questa cosa. Cioè, troppo astio, troppo sdegno nei confronti di ragazze che decidono di mettere in vendita su certe piattaforme le proprie foto e i propri video. Ma non sono semplicemente fatti loro. Ovviamente io non sono per la libertà assoluta, non è che ogni persona può fare tutto quello che vuole, quando quello che fai crea danno a qualcuno oggettivo, è chiaro, è ovvio che sono il primo ad esserne contrariato, ma se una donna vuole mettere in vendita, farò un altro esempio, il proprio corpo, pensiamo alle escort per esempio, saranno pure fatti suoi? Sarà pure una sua scelta legittima? Se una ragazza decide di mettere in vendita le proprie foto, saranno scelte sue. Perché tu devi sindacare? Perché tu devi giudicarla superficiale, squallida? Per me non è squallida colei che mette in vendita le proprie foto e i propri video. Io la considero squallida o meravigliosa come persona. Nessuna delle due cose, non la conosco. Però è un elemento indifferente, che non dovrebbe contare nulla. Cosa cambia se una persona decide di dedicare il proprio tempo a vendere le proprie foto o una persona che decide di dedicare il proprio tempo a insegnare a scuola o fare la postina o fare l'avvocatessa o fare la dottoressa? Alcune donne decidono di vendere le proprie foto, altre donne decidono di vendere le proprie ore lavorative facendo altri tipi di lavori. Scelte personali. E vedo dei commenti del tipo, quando si tratta di casi come Maria Sofia, ma non è l'unica, ha venduto certe foto a dei privati, a delle persone. Poi queste foto sono diffuse in giro illegittimamente. Arrivano un sacco di persone a dire, però, ingenuo, cosa pensavi che poi ciò non sarebbe successo, te lo devi aspettare, furba. Ma è troppo evidente il risentimento che la vostra considerazione, che si concentra più sull'eventuale mancanza di attenzione o troppa ingenuità, più su questo, più che sul crimine che compie chi diffonde cose che non può diffondere. Il fatto che vi concentrate sulla presunta ingenuità o il fatto, ebbè, lo devi mettere in conto, eh, fatti tuoi. Chi fa queste considerazioni evidentemente rosica, ma io mi chiedo perché rosicate se una ragazza guadagna soldi vendendo le proprie foto? Io non capisco. Io non riesco proprio a capire. Io sono maschio, so che se mettessi in vendita foto mie, chi è che le comprirebbe, no? È difficile perché le donne non pagano, è comunque molto raro, mentre le donne possono vendere le proprie foto, le proprie video, perché molti uomini sono più disposti a pagare. Però se per caso ci fossero donne, ci fosse qualcuno disposto a comprare mie foto, miei video, le metterei in vendita e non capisco perché sarebbe lesa la mia dignità in questo. mondo. E pretenderei che se qualcuno non si tiene per sé le foto, le diffonde, pretenderei che ci fosse giustizia. Punto. Mi piace dirlo, ma chi dice, ma se fai quel mestiere lì, poi devi aspettarti che possa capitare, che qualcuno le prende, le mette in giro, le rete, eccetera. Fare queste considerazioni è come dire, quella ragazza che va nel vicolo buio in minigonna con le calze a rete e i tacchi venti e doveva, come posso dire, aspettarselo. Cosa significa? È ovvio, è ovvio che uno deve avere la prudenza, deve tenere in conto che ci possono essere dei rischi, dato che certe persone esistono, esistono gli stupratori, esistono coloro che hanno niente di meglio da fare perché sono dei coglioni malati che diffondono le foto in giro, quindi uno deve tenere conto. Il momento in cui accade, tu non fai la morale a chi ebbe dovevi aspettartelo, solidarizzi contro chi è stato vittima di un qualcosa che non doveva accadere, punto. Poi è ovvio, ha senso dire, però ci sono delle violenze maggiori, pensiamo a, nel caso di cui sto parlando, per esempio, ha una fidanzata che termina la propria storia col suo ragazzo e si trova vittima di una reazione di vendetta, aveva regalato, perché c'è un rapporto di fiducia, di amore, le proprie foto e per vendetta questo le diffonde Revengeport giustamente. Io stesso dico che lì è ancora peggiore il caso, ma non è perché se uno invece mette in vendita, quindi si è data di un mestiere, allora chi se ne frega, devi aspettarti i rischi del mestiere. No, no! E se fate queste considerazioni a mio avviso siete dei frustrati che per qualche ragione e rodete dentro, rosicate dentro, perché, non so, vi dà fastidio perché sarebbero soldi facili e voi dovete spaccarvi il culo, oppure loro possono in quanto donne e voi in uomini no, accettate la realtà senza questi piagnistei bambineschi. Poi dirò di più, ho fatto l'esempio, che sicuramente è più significativo, dei casi di Revengeport veri e propri, quando si tratta di una storia d'amore che finisce e poi c'è quella reazione lì, ma io ho sentito molti uomini, molti, ma anche molte donne, che criticano persino le fidanzate, poi per fortuna è diventato reale, sì, perché comunque cosa fai a fare le foto, ma che cosa vuol, cosa fai a fare le foto, certe cose non so perché, oggi c'è la tecnologia, perché una persona non potrebbe essere libera di mandare il proprio padre delle foto, certo, come primo dire, ti devi fidare, non può essere il primo che passa, soprattutto se sai che poi ti sentiresti particolarmente violata, se qualcuno le diffonde, però vedo sempre troppe, troppe, ah ma, troppe critiche, troppe, quando si tratta di cose sessuali e le protagonizzano le donne, non è che siete un pochettino e non lo sapete, un po' maschilisti, un po' sessisti, un po' frustrati, finitela, cazzo, e mi viene da dire anche, non è il tema ovviamente la stessa cosa, però voglio collegare, voglio fare un tutt'uno in questo video, lamentarsi delle ragazze, delle donne, perché tante di loro preferiscono il tipo ricco e coi soldi, eh, guardate solo i soldi, guardate solo il portafoglio, non guardate il mio cuore, il mio animo meraviglioso, a parte che in molti casi quando qualcuno dice questo, effettivamente non c'è quell'animo meraviglioso, quindi ci sono magari meno soldi, ma l'animo non è affatto meraviglioso, ma anche nel caso ci fosse un animo davvero bello, comunque con tante qualità, ma perché ti devi lamentare, cioè un conto è constatare un po' con amarezza pacata, che magari di per sé è un fatto triste, no? Vivere una propria vita cercando solo i soldi, anche per quanto riguarda una relazione, ma quando diventa troppo questo risentimento, no? E diventa addirittura, eh, tutta cistrona, tutte puttue, davvero mi cascano nel bacio perché mi viene a dire, ma a te cosa te ne frega se centinaia di mila di donne guardano quelli ricchi. Evidentemente sono donne materialiste che danno importanza a quella roba lì, quindi tu, se sei diverso, se hai voglia di cose profonde, ami le cose più profonde, dovrei essere il prima a non essere interessato ad una donna così. Invece sembra che tu vorresti che quella donna lì non stesse con lui, ma stesse con te, o preferisse uno come te, ma non sarebbe lei, perché evidentemente quella donna lì, quelle donne lì, considerano il soldo molto importante. Ti può piacere a te una donna che considera un soldo molto importante? A me non piacerebbe. E allora lascia che una donna evidentemente con priorità superficiali stia con uomini che hanno i soldi e scartino tutti gli altri. Questo te ne deve fregare, a te è meglio. Guardate che è una condizione invidiabile essere, non avere molti soldi, magari non essere dei figheccioni pazzeschi, perché ci sono buone chance che quando qualcuno si avvicinere a te sarà davvero per te. Eh no, ma solo i uomini ricchi però hanno la possibilità di vivere l'amore, ma secondo voi quello è l'amore? Se il motivo, perché poi bisogna anche vedere, ci potrebbe essere uno che è ricco, ma vive una relazione con una donna che magari non sta con lui prevalentemente per soldi, anche se sono il primo a dire che molte relazioni si basano su quello, però bisogna vedere caso per caso. Ma se un uomo ha una donna e questa donna, questa fila di donne, sono lì per lui, principalmente per i soldi, qual è la fortuna? Potrei capire per un discorso di possibilità sessuali, ma qui c'è addirittura gente che dice, eh no, ma la possibilità di essere più amati, ma no, perché se per i soldi di quale amore si tratta? Cioè, c'è un parlo di relazioni in cui se uno per caso perdesse quei soldi o fallisse all'improvviso rimarrebbe solo. Però intanto che c'è quella ricchezza non è solo, sì, ma che rapporto è? Che rapporto è? Su che base si fonda? Io se domani vincessi 10 milioni di euro e avessi 40 mila donne che direbbero, eh, sognerei uno come te, sognerei uno come te, sognerei uno come te, sapendo che il motivo principale sarebbe i soldi, se cambiano la gente che mi vuole dall'oggi a domani perché vinco, non è facile, non è difficile intuire perché, ma me ne fregherebbe nulla. Non c'è nessun motivo di gioire. E allora io posso capire un senso di ingiustizia in un mondo dove domina superficialità. Però poi questo senso di ingiustizia non deve diventare rabbia, ma deve diventare, beh, io mi sento fortunato. Che sono come sono, non mi arrendo, sono nel giusto anche se a molte donne poi bastano semplicemente i soldi, poi uno può essere una caccola dentro. Non mi smuove di una virgola, non mi condiziona di una virgola questo. Quando una persona sarà capace di guardare il mio cuore, una ragazza mi apprezzerà per quello che sono, sarà gioioso vivere il rapporto. Fino a quel momento non ho perso assolutamente nulla. Ah no, se avessi soldi anch'io sarei fortunato. Ma non è una fortuna avere delle donne appresso in più perché è interessate ai soldi. Cercare di capirlo, almeno razionalmente, poi col tempo cercare di interiorizzarlo. E non giudicate, tornando ad un argomento iniziale, una donna perché vende le proprie foto. E' veramente ignobile. E' veramente, veramente, veramente ignobile. Poi sul discorso sfruttare il fatto che certi uomini sono soli e quindi diventano indipendenti dalla compria di queste foto, io non credo che si possa imputare questo alle donne, colpevolizzarle per questo. E' sfruttano la disperazione degli uomini, ho capito. Però spetta agli uomini non essere disperati. Senza vuole giudicare nemmeno loro, eh. Dai, su. a tutti. a tutti. Grazie.